Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre il video è subito qui su Youtube, su Instagram, su Twitch e anche il video in cui potete prestare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare recensione di Owen, edito a Star Comics, 18 euro, manga a volume unico, una raccolta di 9 storie di Ryoichi Kegami, ha già fatto un'altra raccolta alla Star Comics Yuko, ho già fatto la recensione a riguardo. Questa qua ha meno storie, in particolare la prima parte, i primi capitoli sono su una storia, la storia di Owen, che dà il nome a quest'opera, a questo manga. È ambientata nella metà del 1600, quindi tematiche samurai, è uno stile Gekika, mi ricorda, mi ha ricordato molto, Long Wolf and Cub, parecchio, anche se è qualche anno dopo l'ambientazione. Però mi ha ricordato molto, non si incendia principalmente su scontri tra samurai, non che non ce ne siano, ma principalmente si gira intorno a questa Owen, questa ragazza, che si innamora di uno, cambia spesso partner, in verità, viene ucciso, e colui che l'ha ucciso alla fine ci prova con lei, anche se lei non lo sa che è stato lui ucciderlo. Succede un incendio che è storicamente accertato nel 1650, nella vecchia Edo, cioè l'Oderna Tokyo, e quindi vediamo queste avventure di Owen, alla ricerca di questo suo marito che crede ancora vivo dopo l'incendio, quindi va in giro a cercarlo, nonostante sia già morto, però in lei nasce una trasformazione, una trasformazione che la porterà a compiere un gesto davvero estremo. Lo stesso Genosuke, che è questo samurai che ci sta provando palesemente, è un Ronin, cioè un samurai senza padrone, anche perché ormai l'epoca Sengoku è finita un po', e quindi samurai o lavori per i Tokugawa, o se no, i tuoi servizi non sono quasi neanche più richiesti, e vai, comunque ti vendi la tua spada al miglior offerente, e comunque essendo un samurai sei abituato a spadroneggiare, soprattutto con i più deboli, e fare quello che vuoi, in poche parole. E' una storia forte, soprattutto nel finale, ecco, è abbastanza lineare, è abbastanza storie già viste all'inizio, poi nel finale, diciamo è molto forte come finale, poi ci sono queste storie, una storia di piccioni impazziti, qualcosa che vede, una persona che vede il futuro, e altri racconti, è un'opera questa. Fatta per conoscere questo autore, Ritchi Kegami, lo stesso autore di, adesso, One Million, è Trillion, cioè Trillion, il suo manga in corso è Trillion, che ci aveva già fatto la prima impressione, che però non continuo, mentre la sua opera, secondo me, è il suo dappolavoro, è Sanctuary, che sta venendo fuori la nuova edizione adesso, quindi vi invito a recuperare questo, questo manga per conoscere l'autore, lo stile di disegno, lo stile parecchio che ha, e anche delle sue opere, fa molte storie, molte diverse, non sono tutte storie più o meno lineari, vedi questo, per esempio, è una storia storica, poi ci sono storie più moderne, più contemporanee, anche con i giorni nostri, oppure per chi questo manga, per chi magari vuole conoscere appieno questo autore, che magari ha già letto una sua opera, e vuole aumentare la sua conoscenza, oltre a, come già accennato, c'è Yuko, stessa, sempre Star Comics, stesso prezzo, sempre una raccolta di storie, quelle, se non sbaglio, erano 13, è un modo per conoscere di più questo autore, lo consiglio, sì, perché comunque sono storie belle, visto che di novità non è che ce ne siano chissà quante belle ultimamente, è un volume unico, ok, 18 ero, ma è un volume unico, finita lì poi, e comunque vedete varie storie diverse, chi più, chi meno belle, ci sono ovviamente quelle più belle e quelle meno belle, però non mi ha fatto schifo nessuna, quindi è comunque un livello abbastanza medio-alto di ogni storia, e sinceramente lo consiglio anche per chi già conosce l'autore o chi vuole conoscerlo. Io vi ringrazio, se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate like, noi ci vediamo ai prossimi video.